Grazie a persone come Mattagher e Greg Braden che hanno lavorato su questo Conscienza Globale. Facciamolo adesso con la nostra bellissima comunità che si è riunita, creiamo un campo di coerenza e io vi invito a chiudere i vostri occhi e poteste voler mettere le vostre mani in una posizione dove voi state inviando energie ma anche ricevendo energia. E in questa connessione infinita tra il dare e il ricevere, questa anella a forma di infinito, portiamo la nostra attenzione alla nostra anima. Ognuno di noi ha un'anima e la nostra anima, sia che la sentiamo anima individuale di noi, è parte di un collettivo, di una famiglia collettiva di anime. Noi siamo connessi dalla famiglia dell'anima. E il nostro intento è che in questo spazio che abbiamo creato, in questo campo che abbiamo creato insieme con la famiglia dell'anima, noi inviamo un'onda di benevolenza e speranza e pace a tutte le anime che sono sul pianeta durante questi tempi di grande cambiamento. E inviamo quest'onda di benevolenza, speranza e pace a ogni anima, proprio adesso, sul nostro bellissimo pianeta che sta attraversando un grande cambiamento. E nelle prossime settimane e mesi che verranno, noi irradieremo questa esperienza di benevolenza, speranza e pace, verso l'esterno, come un campo energetico. Nulla che deve essere detto, semplicemente essere in questo spazio di irradiare, verso la famiglia dell'anima. E potete adesso, gentilmente, rilassare le vostre mani, mentre diamo il benvenuto alla continuazione dell'energia di benevolenza, pace e speranza da Crayon. Saluti, miei cari. Io sono Crayon, del Servizio Magnetico. Abbiamo detto spesso che questo non è un messaggio globale, è un messaggio personale, e lo diremo di nuovo. Questi sono davvero tempi difficili per molte persone. Eppure abbiamo detto e continueremo a dire che il cambiamento è su di voi. E questo cambiamento, che è stato predetto dagli antichi, predetto moltissime volte nelle mie canalizzazioni, prima del 2012, è qui, da quasi un decennio, e adesso potete vedere di cosa vi stavamo parlando. E non è un cambiamento che vi porta necessariamente delle guerre tra paesi, come avreste potuto pensare. È una guerra, è una vera guerra tra la luce e l'oscurità. E iniziate a vederne i risultati. Le risposte che daremo anche oggi riguardano l'uscire dalla mischia e mettervi in una posizione in cui possiate vedere e percepire la vostra magnificenza e andare avanti. Ci sono davvero diversi aspetti di questo. Come create più luce? Come portate questo pianeta a più luce, più pace? Questo è un aspetto, ma mentre lo fate, come fate a sopravvivere? Come potete essere coerenti con ciò che è spirituale quando tutto intorno a voi c'è confusione e oscurità? E quindi vi portiamo una serie di canalizzazioni per aiutarvi a capire chi siete e per aiutarvi a raggiungere questo obiettivo. queste quattro canalizzazioni di questo mese saranno intitolate la straordinaria anima umana oppure se volete le potete chiamare gli straordinari attributi dell'anima. In tutto ciò noi stiamo parlando della vostra anima. Ci saranno quattro canalizzazioni tutte disponibili per tutti. Cari miei, noi stiamo parlando dell'anima da quando siamo arrivati. Sono 31 anni che parliamo dell'anima umana. Nel 2014 abbiamo sviluppato un programma. Ho chiesto al mio partner di mettere insieme le informazioni in cui parlavamo dei nuovi attributi dell'essere umano e di come essi si interfacciano con voi, con la vostra cash e con tutti gli elementi e le parti esoteriche di voi, anche il vostro innato. Quell'insegnamento potremmo farlo di nuovo e lo ripeto, ma per adesso vorrei parlare di quattro straordinari attributi che avete bisogno di ricordare in questo momento così che possiate capire chi siete. Wow! Se poteste vedere voi stessi come noi vi vediamo, vi lascerebbe a bocca aperta, magnifici, non solo una biologia, sotto una pelle, un cervello, un po' di coscienza. Spesso è così che molti di voi vedono se stessi come una persona che va da A a B, affronta certe cose e le supera. Ma c'è molto di più in atto. Vorrei ricordarvi quanto siete grandi. L'anima umana è un aspetto spirituale riconosciuto in tutto il mondo. L'abbiamo già detto. Ogni religione o sistema di credenza del pianeta possiede qualche metafora per definire un vostro sé più grande, un'anima. Persino chi solca i oceani per indicare il numero di passeggeri parla di anime a bordo. C'è un riconoscimento da tutte le scritture dell'esistenza di qualcosa di più grande di voi. è un peccato cari miei che un pianeta lineare con dei sistemi di credenza lineari che vi invitano ad adorare un Dio magnifico vi venga poi a dire che l'anima esiste solo per un motivo per essere punita o ricompensata in seguito. È come se l'anima fosse un veicolo da punire o ricompensare qualcosa che accade dopo la vostra morte. vi sembra giusto? La vostra anima fa parte della sorgente creatrice. Lo sapevate? Voglio parlare di quanto siete grandi. Di quanto sia grande l'anima dell'essere umano. C'è chi cerca di applicare delle misurazioni su di essa e dice dovrebbe fare questo e quest'altro e magari la confonde con la Merkaba che è una bolla spirituale in forma lineare che è attorno a voi mentre camminate sul pianeta. È grande, misura 8 metri ed è attorno a ciascun essere umano ma non è la vostra anima. Parliamo di questo. Quando è che un essere umano riceve la sua anima? E la risposta è sì. Non la riceve mai perché è sempre esistita. lo sapevate? Questa è una lezione molto difficile da spiegare e insegnare e da riconoscere perché un essere umano è lineare. Una volta abbiamo detto che tutto ha un inizio e una fine per voi sul vostro pianeta che sia la vostra vita o la vostra auto o un paio di calzini o una corda ha un inizio e una fine. E quindi è questo il modo in cui voi pensate finché non si tratta di Dio naturalmente. Qual è stato l'inizio di Dio? E voi direste non ce n'è stato uno perché Dio è sempre esistito e ora cari miei utilizzate un po' di logica spirituale se la vostra anima fa parte di Dio della sorgente creatrice che è sempre esistita allora voi il vostro sé più grande la vostra anima è sempre esistita sempre e sempre esisterà. e voi potreste dire ma questo non ha senso come si rapporta questo alla mia umanità e a tutte queste cose. Cari miei se questo è un enigma per voi per noi non lo è e ve l'abbiamo spiegato tante volte la vostra anima è progettata per fare proprio quello che state facendo adesso per andare in diversi luoghi assumere la forma e la coscienza umana e lavorare a questo rompicapo e poi quando avete fatto ritornate all'anima fa tutto parte di un sistema universale di bellezza e benevolenza e c'è uno scopo per questo c'è uno scopo per l'esistenza del velo per tutte le cose c'è uno scopo per il libero arbitrio che vi vede qui su questo pianeta in grado di compiere delle scelte senza alcuna interferenza da parte di un angelo che sta a fianco a voi e vi dice no no non fare questo c'è un motivo ma la vostra anima è immensa quanto è grande Dio e voi potreste dire ok ho capito quello che non capisco che l'anima è immensa ma io sono umano e mi trovo qui adesso quindi come mi aiuta tutto questo e io vi dirò che esiste una parte multidimensionale in ogni essere umano e non si trova esclusivamente nella vostra ghiandola pineale è nel vostro DNA è in ogni cellula del vostro corpo e sta iniziando a ricevere luce e questo è il cambiamento ascoltate il cambiamento sul pianeta riguarda voi che ricevete più sagaccia multidimensionale più consapevolezza multidimensionale e iniziate ad evolvere ad una coscienza più evoluta volete che lo ripeta? questa è l'evoluzione un'evoluzione di coscienza ed è ciò che sta accadendo voi state iniziando a ricevere questo aspetto multidimensionale e questo sta creando l'evoluzione della consapevolezza della luce della coscienza ed è proprio questo che sta guidando tutte le cose che vedete adesso ma vi guiderà anche verso delle soluzioni perché tutti voi state diventando più consapevoli Kryon non ho capito come possiamo essere multidimensionali e cosa significa? voglio darvi un suggerimento qualcosa che abbiamo già detto per mostrarvi che questa dotazione che avete chiamato DNA struttura cellulare coscienza non è semplicemente qualcosa che è sotto la vostra pelle come il vostro corpo ma la vostra coscienza e gli aspetti multidimensionali del vostro DNA sono immensi parliamo di nuovo dei gemelli identici gemelli identici che sono su questo pianeta ne conoscete qualcuno? se provate a raccontare loro quello che io sto per dirvi vi dire però che possono trovarsi agli emisferi opposti di questo pianeta ma quando accade qualcosa che influenza entrambi come per esempio la loro madre ha dei problemi entrambi lo sapranno uno alzerà il telefono per chiamare e l'altro sarà pronto per rispondere e dirà l'ho sentito cos'è successo? in altre parole con un DNA identico due esseri umani due individui due coscienze sono talmente collegati che a miglia di distanza ricevono le stesse informazioni e questo processo in fisica ha un termine una nomenclatura un nome si chiama entanglement è un aspetto quantico ovvero qualcosa che va oltre il lineare l'entanglement è ben noto ai fisici ed è qualcosa di sorprendente in cui voi siete talmente grandi che se siete in entanglement con qualunque cosa potreste trovarvi su un'altra stella su un altro pianeta e se qualcosa accade qui l'altra parte di voi lo saprà all'istante la distanza non conta il tempo non conta questo esiste chiedete a un fisico è reale e sta accadendo anche nel vostro DNA quanto siete grandi voi siete grandi quanto Dio vorrei farvi capire che voi avete la capacità di entrare nella vostra anima nel vostro cuore come si dice e le più benevolenti onde d'amore verranno da voi e la vostra coscienza smetterà di fare retorica su tutte le cose negative e dirà va tutto bene io sono l'io sono io vado oltre ciò che mai sarò e provengo da ancora prima che fossi mai stato questa è un'affermazione multidimensionale voi saprete chi siete e questo vi aiuterà ad attraversare tutti i conflitti di adesso che sono così lineari c'è speranza per questo pianeta cari miei c'è speranza ci sono soluzioni se tenete duro questo è il pensiero questa è la luce la luce sta iniziando ad amplificarsi e nel processo sta disturbando parecchio l'oscurità l'oscurità vorrebbe alzarsi e dirvi che non se ne andrà mai ma la luce vincerà la luce sta già vincendo in certe aree è tutto veloce sappiate chi siete io sono Crayon innamorato dell'umanità e così è grazie a tutti Grazie a tutti